Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il microfono a condensatore a staffa da tavolino di marca Maono PM422 che devo ringraziare la Maono appunto per averci fornito questa copia per la recensione, questo prodotto e lo sto usando in tutte le live di Twitch dove streamiamo praticamente regolarmente e mi ci sto trovando veramente bene perché è un gioiellino dal costo ridotto, giusto e ha delle altissime prestazioni. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Il PM422 è un microfono a staffa e a condensatore. Si può collegare direttamente tramite presa USB come vedete al computer, offre una qualità da studio, prestazioni praticamente per lo più eccezionali e viene usato per le live, per i gameplay, per registrare la propria voce ma anche per registrare gli strumenti perché è un vero e proprio, ovviamente in fascia economica, però è un vero e proprio microfono da studio. Come potete notare ha un braccio snodabile in metallo, quindi anche bello resistente e una morsa da fissare direttamente al tavolino e che poi potete regolare come vi pare. Tra le cose più belline che danno subito all'occhio, qui davanti abbiamo il volume del microfono quindi ovviamente potete regolare la vostra voce, davanti il tastino per accenderlo e spegnerlo quindi quando volete mutarvi, se non volete mettere su un'applicazione tipo disco del Pusto Torque premete direttamente lì e quando è celestino vuol dire che è acceso, quando diventa rosso come in questo caso vuol dire che è stato spento e molto bellino, molto comodo, veramente tanto comodo qui davanti c'ha alla porta l'attacco unico ovviamente per le cuffie quindi nel caso potete attaccare le cuffie direttamente al microfono. Ha qui davanti il pop filter, ovviamente per ridurre rumori e qualsiasi tipo di suono che ci potrebbe essere e che potrebbe andare a dare fastidio e come vedete è regolabile direttamente a vostro piacimento col braccio tra l'altro snodabile davanti al microfono. E poi già di suo ha la cappa in spugna che la potete tranquillamente utilizzare anche senza il pop filter davanti, potete parlare direttamente al microfono e anche questo va ad attutire tutti quanti i rumori che ci potrebbero essere soprattutto quando vi avvicinate troppo per parlare al microfono. Caratteristica principale di questo PM422 è che è un microfono di categoria cardioide questo vuol dire che registra l'audio in maniera chiara, pulita e impeccabile quando siete a parlare direttamente davanti al microfono. Infatti si nota una differenza quando parlate e magari tenendolo così state giocando, parlate, si sente comunque una voce chiarissima però come vedete col braccio snodabile che tra l'altro è anche bellino perché ve lo potete allungare come vi pare avvicinandovi voi, ora abbasso un po' il pop filter avvicinandovi voi e parlando direttamente così più vicino al microfono avrete sicuramente una qualità disumanamente migliore. Ora non sto parlando con questo, sto parlando col piccolo lavalier che vedete qui che è quello con cui registro il video dal telefonino tanto ora comunque a breve ve lo faccio sentire all'opera. Se lo volete acquistare vi lascio il loro sito della Mono primo link in descrizione di solito il prezzo è quello di 89 euro attualmente scontato di 10 euro quindi 79 euro e per un microfono del genere poi ragazzi vi basta andare su Amazon direttamente cercare microfono a staffa, condensatore li vedete bene i prezzi poi magari uno lo trova anche da 30 euro però è una patacca questo è veramente un microfono da studio altissime prestazioni e soprattutto per fare live ragazzi è perfetto io sto usando questo, ho tolto il toner per usare questo è dotato tra l'altro anche di questo anello qui shock mount che è antivibrazioni infatti è tutto quanto legato da degli elastici veramente duri che lo tengono a presa così a tiro e anche le vibrazioni sono praticamente zero e quindi risulta anche un microfono molto stabile è il classico microfono plug and play neanche che quando lo andate a collegare nella sua memoria interna ci ha installati i driver no, plug and play poi ovviamente lo dovete andare a settare per avere la miglior resa possibile ma quello ci mancherebbe qualsiasi cosa, qualsiasi microfono cuffia va settata al meglio però già di suo come lo sentirete a breve plug and play inserito è perfetto ora sto parlando direttamente dal microfono PM422 della Maono a condensatore e come sentite la qualità audio è veramente veramente interessante perché mi potete sentire parlare a questa distanza quindi tenendolo lateralmente quindi magari non volete parlare così avendo la stream da quella parte lì magari guardate lo schermo avete bisogno di guardare lo schermo e questa qui è la parlata a distanza del PM422 mentre invece questa o avvicinandovelo anche lo vedete tanta staffa si allunga ve lo regolate come vi pare questa è la parlata invece da vicino ed è il microfono sicuramente le prestazioni possono essere ancora migliori se lo settate perfettamente io l'ho attaccato presa USB partito sentite già che qualità e direi che siamo veramente a livelli molto alti prima di tutto grazie per aver guardato questo video seguimi su tutti quanti i miei social e sul canale Twitch come ad esempio Facebook dove metterò tutte le informazioni sul canale novità progetti e anche scriverò quando vado in live sul canale live Twitch dove regolarmente diverse volte a settimana giocheremo di ruolo quindi il canale Twitch sarà dedicato al roleplay ai giochi di ruolo e anche ai giochi da tavolo ma con prevalenza appunto ai giochi di ruolo le porteremo avanti sia single shot one shot che anche vere e proprie campagne e per ultimo ma non meno importante seguimi anche su TikTok dove caricheremo i momenti salienti delle live i momenti divertenti mia moglie stessa carica magari degli spezzoni di sue giocate ai giochi del computer o anche altre cose che riguardano ad esempio la pittura le miniature e tutto quanto il mondo dei tabletop che ci ruota intorno ma non soltanto quindi iscrivetevi è importantissimo anche al nostro canale TikTok dunque cliccate tutti e tre Twitch Facebook e TikTok e iscrivetevi a tutti e tre soprattutto su Twitch durante le live potrete usare i punti che guadagnerete semplicemente guardando le live magari per dare un bonus un malus ai giocatori o anche per cambiare a volte il corso dell'avventura e ricordatevi importantissimo mettete la spunta sulla campanella di YouTube perché almeno vi arriveranno tutte le notifiche e ogni volta che uscirà un video non ve lo perderete mai ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti